Non ero mai stato alla Sacra di San Michele, fino a quando, nel novembre del 2015, decisi di andarci all'alla. Purtroppo, però, fino alla nove e mezza, è chiuso. Ma come si può rinunciare all'emozione di entrare per secondi perché c'era già un pensionato che aspettava? Ma come si può rinunciare all'emozione di entrare per secondi perché c'era già un pensionato che aspettava? Una gita in questi luoghi affascinanti è sicuramente un'esperienza imperdibile. Grazie a tutti. Se ti è piaciuto questo esperimento, iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video. Non ero mai stato alla Sacra di San Michele. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.